Chiudono a 6.000 abitanti, il 17% della popolazione è immigrata. Abbiamo alcuni, diciamo, integrati, dei tempi dell'Albania. Sì, integrati in qualche modo, però qui non parliamo di migranti, qui parliamo di richiedenti asilo. Sì, qui parliamo di richiedenti asilo che neanche hanno tanto dalla loro... Nessuno ne abbiamo in questo momento e ci siamo... Allora, in questo momento vi spiego la situazione attuale del mio comune. Non abbiamo alcun richiedente asilo e quando il prefetto ci ha convocati insieme ad altri sindaci della provincia, tutto l'ambito di cui faccio parte, siamo otto comuni, a guida centro-destra e centro-sinistra. Nel nostro caso nessuno ha accettato di collaborare con la prefettura. Questo perché, sempre per il motivo che noi come sindaci, e come dovrebbero fare anche tutti agli alti livelli, non possiamo lasciarci trasportare dalle emozioni. Dobbiamo pensare ai problemi che ci sono sul territorio e affrontarli, perché non possiamo aggiungere problemi ad altri problemi che stiamo risolvendo. Le parlo ad esempio di integrazione. Noi siamo un paese molto accoglienti, stiamo integrando tante persone, ma l'integrazione si può fare quando c'è lavoro. Ci sono fabbriche che hanno bisogno di lavoro, bene, non ci sono fabbriche che hanno bisogno di lavoro. Dobbiamo cercare un'alternativa per poter ospitare queste persone. Da noi non si può, non c'è proprio spazio in questo momento.